Eccoci qua, Maurizio Poli, buongiorno. Venerdì, questo venerdì ore 12, presso la nostra sede di Resolution a Cremona, via Antiche Fornaci 31, abbiamo un altro aperitivo finanziario in cui parleremo della mia pensione, i fondi pensione, i fondi integrativi. Dice, ma cosa vado ad ascoltare? Mi basta la mia pensione pubblica? Oppure qualcun altro potrebbe dire, ma sono troppo giovane per pensare alla mia pensione. E poi dice, quando sarò in pensione mi serviranno meno soldi. Un altro potrebbe dire, ma io voglio essere libero di risparmiare a modo mio, di poter avere gli investimenti come credo io. Oppure, dice, al momento della pensione ci penserò, procastinerò, rinvio la decisione. Ma in realtà molti preferiscono spendere loro soldi tentando la Dea Bennata, pensando al Gratevinci. E poi la mia pensione. Quando si presenterà, perché si presenta poi la cosa, mi trovo in situazioni non tanto gradevoli. Quindi venerdì ne parliamo, parleremo di come non procrastinare, come non rinviare decisioni per la protezione della mia persona e della mia famiglia. Vi aspettiamo, naturalmente, segue l'aperitivo per un brindisi con tutti voi.